E' cominciata stamani presso lo stadio Ferrante di Pirimonte Matese la preparazione del football club matese agli ordini di mister Urbano in vista del campionato di serie D che inizierà il prossimo 27 settembre. Una rosa composta da circa 30 calciatori continuerà la preparazione con una seduta giornaliera e poi dal prossimo lunedì si comincerà a fare sul serio con una doppia seduta. Stamattina si è lavorato molto sull'atletica ma ha fatto capolino già il pallone per rendere il lavoro meno noioso. Presenti buona parte dei dirigenti con in testa il presidente Rega. A margine della seduta abbiamo sentito il direttore sportivo Raffaele Corsale e sentite che cosa ci ha detto. Raffaele Corsale da calciatore diciamo al responsabile numero uno di questa squadra. Ma responsabile numero uno diciamo che faccio parte di una squadra come dicevi tu e quest'anno abbiamo tolto i panni da calciatore e siamo passati dietro la scrivania quindi i panni da dirigente. Senti qual è il tuo colpo di mercato più importante se ce lo vuoi dire? Ma colpo di mercato ormai il calcio non è più giocatori singoli noi facciamo della nostra forza il gruppo quindi non c'è stato nessun colpo di mercato che abbia potuto far sì che faccia la differenza ma la squadra come è stata composta speriamo che faccia togliere le soddisfazioni che noi ci siamo prefissati. Ecco e per quanto riguarda i giovani? Ma i giovani sono il bacino e sono importanti come i calciatori speriamo si amalgamano subito come la categoria ha bisogno di quattro under obbligatori quindi un 99, un 2000, un 2001, un 2002. Speriamo che ci sia subito questa amalgama. Il ritiro si fa soprattutto per cercare di fare gruppo e quindi siamo partiti quanto prima. Un nome solo, Ciotola? Ciotola non ne devo parlare io, ne parla il suo curriculum ma è un calciatore come gli altri e si è messo a disposizione della causa e speriamo che ci faccia togliere le soddisfazioni che noi ci auguriamo. Ciotola non ne devo parlare io, ne parla il suo curriculum ma è un calciatore come gli altri e si è messo a disposizione della causa.